Per questo campionato se ne fa niente. Il Frosinone completerà la stagione al vecchio Matusa e solo durante la pausa estiva ultimerà il trasferimento nel nuovo Benito Stirpe. Ad annunciarlo è stato il presidente Maurizio Stirpe, ha presentato i nuovi rendering della struttura, definitivi al 99%, ha annunciato le variazioni al progetto iniziale legate essenzialmente a questioni di sicurezza. La copertura della tribuna, ad esempio per volere del presidente, è stata attestata nella Galleria del Vento per essere sicuri che regga anche in caso di maltempo eccezionale. E poi i tempi. Si slitta in avanti di circa un mese, colpa di alcuni ritardi burocratici con il genio civile per opere realizzate in modo congiunto da comune e privato. Cosa significa questo? Che a fine febbraio i lavori saranno ultimati e solo allora si potrà avviare la fase dei collaudi. Anche se fossero rapidissimi, non ci sarebbe più il mese di pausa previsto tra Natale e metà gennaio nel quale trasferire tornelli, telecamere e arredi. Quindi tutto rinviato alla prossima stagione per il debutto dei Canarini nel Benito Stirpe. Il rinvio dello stadio determina anche un altro slittamento, quello della realizzazione del grande parco urbano da fare in pieno centro cittadino, lì dove oggi c'è il Matusa. È una delle opere che il sindaco Nicola Ottaviani aveva previsto di realizzare prima delle elezioni. Ci sono delle clausole e delle penali proprio per scongiurare i ritardi. Maurizio Stirpe su questo ha sgombrato il campo. Le penali scattano se ci sono colpe, se ci sono inadempienze, ma in questo caso non si tratta di una negligenza. E comunque, anche se fosse, dice il Presidente, noi non vogliamo stare a litigare con nessuno. Dopo aver speso 15 milioni non saremo certi a guardare quei 5 mila euro di penali.